Danilo D'Angelo, tre punti importanti per il Boiano, arriva il primo sorriso stagionale, che giudizio puoi dare a questo inizio di stagione da parte vostra? È stata una partita molto difficile, combattuta, però fortunatamente abbiamo portato i tre punti a casa, era molto importante, questo ci dà morale e speriamo di continuare così. Gruppo giovane con più di qualche elemento di esperienza, dove si potrà arrivare a tuo avviso? Io penso che questa è una squadra molto competitiva, noi non ci diamo limiti, speriamo e puntiamo ad arrivare in alto sicuramente. L'avvio a Guglionesi non è stato dei più positivi, avete però incontrato una delle squadre che lotterà per i piani alti della classifica. Sì, a Guglionesi è stata una brutta batosta, però loro sono una squadra molto preparata, una delle squadre che ambisce la vittoria del campionato e dagli errori bisogna imparare, quindi speriamo di non ripeterli più. Dal punto di vista personale, cosa ti aspetti da questa stagione? Io sicuramente spero di poter dare una mano al mister e al Boiano, sono venuto qui per dare una mano e mettermi in gioco in questo campionato.